Quello che a me ha sorpreso e quello che mi preoccupa di più dell'episodio di ieri sera è una certa scellevatezza nella comunicazione, cioè subito sono erate in agenzia fonti ufficiose della Nato, ma da Bruxelles, che parlavano di due missili russi caduti oltre il confine polacco. Allora uno legge agenzie internazionali, fonti della Nato, provenienza a Bruxelles, sa che ieri i radar della Nato monitorano costantemente quella zona, ieri quando c'è stato questo incidente c'era un drone Global Oak, partito tra l'altro da Siconella, che stava proprio in quell'area e non sfugge la traiettoria di un missile russo. E quindi che è successo? Non lo so, ma i missili russi, nell'attacco di ieri, i missili russi partono, quelli lanciati dagli aerei partono da eri che restano fuori dal confine ucraino, gli altri sono stati lanciati da navi nel Mar Nero o addirittura nel Mar Caspio ieri. Quindi la traiettoria di un missile dal Mar Caspio è difficile a confonderla con quella di un missile che si leva in volo dal territorio ucraino della frontiera. O effettivamente c'è stata un'intercettazione che ha deviato il missile e quindi si sono confuse le armi in volo, perché la balistica di questi ordini è veramente approssimativa e crea enormi confusioni. Oppure c'è stata una pessima disattenzione nel diffondere notizie ufficiali quando le notizie ufficiali non c'erano. Cioè è stata quella dichiarazione prima ancora della riunione del governo polacco ad aver fatto temere a tutti che si potesse arrivare all'escalation e che si potesse invocare l'articolo 5 del Trattato Atlantico, perché proprio proveniva dal quartiere generale di Bruxelles. Ho visto che a mezzogiorno il Presidente polacco a mezzogiorno di mercoledì ha detto che il missile caduto in Polonia era della contraere Ucraina. Uno sfortunato incidente. Le prime immagini. Che cos'è? Cosa sono questi missili? Cosa sono S-300? L'ipotesi dall'esame dei Vottami, certezze ancora non ce ne sono. Alcuni dei Vottami sembrano essere i missili S-300 che sono dei missili terra-aria, dei missili della contraerea di produzione sovietica che vengono utilizzati in questo momento soprattutto dalle forze ucraine e quindi il Vottami di una delle espressioni. Queste che stiamo vedendo che cosa sono? Questa è una batteria di S-300 ucraina schierata proprio nella zona occidentale del paese, perché tutti i mezzi, una batteria è composta da diversi veicoli, alcuni che lanciano i missili, altri che hanno i sistemi radar che scoprono gli eri nemici, altri che hanno i sistemi radio che guidano i missili. Allora nelle zone orientali del paese questi mezzi vengono tenuti separati perché sono i bersagli privilegiati dei raid russi, mentre invece nella zona più vicina alle regioni occidentali vengono tenuti raggruppati, che è più scomodo logisticamente. Polacco ma anche più a sud, è una zona più per capirci verso la Romania perché anche quella è una zona che è sottoposta ad attacchi, sia perché lì ci sono le industrie che continuano a funzionare ma sia perché lì c'è la concentrazione dei mezzi e dei fornimenti che arrivano dall'Occidente e che poi vengono smistati alle prime linee ucraine. Dietro di te c'è una piantina, adesso non ti chiedo di alzarti, però sostanzialmente quella parte rossa è il confine con la Polonia e questi rottami di missili sono caduti lì a pochi chilometri dal confine con l'Ucraina. Sì, ieri sera il Ministero della Difesa russo ha detto una cosa smentita dai fatti, cioè che non c'erano stati attacchi in prossimità della frontiera polacca, mentre invece sono stati lanciati numerosi missili in direzione di quella che noi chiamiamo Leopoli, ma soprattutto proviamo ad alzarci. Lì c'è se vuoi anche una bacchetta, guarda, la puoi prendere. È interessante perché prima che si scatenasse l'allarme i siti filorussi, i canali telegram filorussi avevano descritto un attacco a Kovel, a questa località ucraina che non solo è molto vicino al confine, ma è molto vicino al punto dove è caduto il missile contro aereo, ammesso che si tratti di un solo missile. Questo attacco alla località, che è stato presentato proprio dai canali telegram che sostengono la propaganda russa, sembra essere, secondo me, esaminando la portata dei missili, perché gli S-300 hanno una portata tra i 75 e i 150 chilometri, ma ormai l'Ucraina ha finito l'escorta delle armi migliori, perché ormai sono nove mesi che si deve difendere da un continuo stilicidio missilistico e quindi credo che fossero gli esemplari più vecchi e uno deve calcolare un raggio di 75 chilometri al punto dell'impatto.